E' stata definita operazione Ermitage dal nome della società L'Ermitage SRL che fungeva da cassaforte per l'intestazione di numerosi beni fusasi poi per incorporazione in una società anonima svizzera nell'ottica di schermare la titolarità effettiva dei beni. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito questa mattina dando corso a 18 perquisizioni domiciliari in provincia di Roma, Genova, Novara, Grotone e Cuneo nove misure di custodia cautelare di cui sei in carcere e tre agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni imprenditori. Tra gli arrestati figura anche il noto faccendiere Paolo Oliverio già tratto in arresto sempre dalle fiamme gialle nelle scorse settimane e tuttora detenuto presso il carcere romano di Regina Celi nell'ambito dell'indagine che ha coinvolto tra gli altri padre Renato Salvatore superiore generale dell'ordine religioso dei camigliani. I reati contestati sono quelli fiscali e fallimentari. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati beni per 154 milioni di euro a carico di 13 persone e individuato un impolibile vaso per oltre un miliardo e 300 milioni di euro. Le indagini delle fiamme gialle hanno portato anche alla denuncia di ulteriori 79 persone e del convergimento di 82 imprese. Tra queste alcune aggiudichetarie di appalti con la pubblica amministrazione. Dalle indagini è anche emerso che l'organizzazione faceva transitare milioni di euro su conti correnti svizzeri e monegaschi intestati a società panamensi.